Sindaco Umberto Di Primio, la situazione di stallo che permane a livello regionale crea problemi anche per il futuro della politica stessa? Ma la situazione di stallo che si è creata è una brutta pagina della politica regionale abruzzese perché abbiamo un presidente che si è aggrappato ad una poltrona, quella romana, e non vuole cedere quella invece che ne determina l'incompatibilità che è quella regionale. Se fosse soltanto un problema di poltronificio potremmo anche passarci sopra, ne abbiamo viste tanti in questi anni. La realtà è che questo doppio incarico sta bloccando la politica regionale, la politica regionale la si percepisce soltanto per le conferenze stampa di un presidente che continua a fare campagna elettorale e non si ha invece la possibilità di fare programmazione, di iniziare a riprogrammare una regione che comunque dovrà vivere una nuova stagione nel momento in cui finalmente il presidente si dimetterà e quindi potremo tornare alle urne. Ecco il vero problema che oggi abbiamo anche come amministratori è quello di avere una regione che sta galleggiando in attesa che arrivino le dimissioni e quindi nessuno assume vere responsabilità e assume impegni perché tutti sanno che prima o poi, io spero prima piuttosto che poi, si possa tornare, si tornerà alle urne. Umberto Di Primio è tra i candidati alla successione di D'Alfonso. A questo punto come vede la situazione? Io sono uno di quelli che ha dato la propria disponibilità, a cui è stata richiesta la disponibilità e abbiamo dato la disponibilità perché ci possa essere una candidatura. Questa verrà scelta per quanto riguarda il centrodestra soltanto quando avremo trovato la persona giusta che possa mettere insieme tutte le anime del centrodestra, che possa mettere insieme i partiti del centrodestra e che soprattutto abbia in mente un progetto per la regione che la sollevi dallo stato di agonia nella quale in questi anni è stata ridotta.